Bentornati su Redesign sono sempre io Nicola e con me qui Paolo sempre presente sempre io chi io qui docente di web marketing Paolo anche perché ha avuto già delle lezioni ambedue consulenti basta spararsi le pose andiamo avanti tocchiamale se vuoi lezioni tocchiamale se vuoi lezioni oggi di cosa parliamo ci dilunghiamo sempre oggi non lo faremo oggi parliamo di virtual influencer sì questa volta riusciremo a non dilungarci forse non si sa però ci proveremo considerando che il fattore umano ormai è superatissimo nelle strategie di marketing quindi io e Nicola non serviamo più a un cazzo e questo lo diciamo a tutti i clienti presenti passati e futuri no diciamo la verità per una volta diciamo la verità diciamo la verità diciamo la verità allora visto che ehm diciamo eh stiamo andando sempre di più verso un mondo eh digitale anche gli influencer come avete visto anche dal titolo del nostro podcast video abbiamo citato non non a caso la solita Chiara Ferragni ma solo perché a livello SEO ci porta un sacco di traffico sono un infame siamo degli infami abbiamo abbiamo citato la diciamo la queen degli influencer italiani ma non solo perché eh c'è un nuovo fenomeno nuovo fenomeno che si chiama virtual influencer ovvero degli influencer ovvero degli influencer che non sono umani non esisto sono degli avatar 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 non a caso il film ti ricordi orrendolo odiato tantissimo anch'io l'ho detestato odiato tantissimo però non è questo il tema del giorno non stiamo già perdendo benissimo non parleremo di parleremo di avatar allora perché è venuto fuori questa tematica perché una grandissima campagna una grandissima diciamo eh azienda americana che produce pollane i profeti del pollo fritto esatto che forse rientrano tantissimo nella serie tv breaking bad eh sì lo spoglio sermanos lo spoglio sermanos ogni puntata avevo voglia di abbottarmi di frittura unta ogni puntata probabilmente lì veniva richiamato la catena famosa e reale che si chiama KFC KFC che sarà per Kentucky Fried Chicken ovvero un sacco di roba fritta di polli che cosa è successo KFC cosa ha fatto Paolo KFC è noto per due cose il pollo fritto e il colonnello Sanders il colonnello Sanders è quel bel faccione da gentiluomo del sud dei stati uniti così rassicurante con quei bei baffoni bene il colonnello Sanders non è più solo un logo ma esiste esiste non esistendo perché è diventato il nuovo testimonial di KFC hanno usato la figura del colonnello Sanders come influencer virtuale monitorano la loro giornata lui dice le sue robe lo fotografano lo seguono è come Chiara Ferragni soltanto senza carne e ossa esatto e mica cazzi vabbè per me Chiara è un cesso posso dirlo tranquillo a me piace a te piace ma tu sei dei problemi comunque ci stiamo già perdendo no perché è interessante intanto farei una prima analisi che non è stata fatta all'interno dell'articolo da cui abbiamo tratto spunto per questa giornata ci sono sia gli avatar ma anche personaggi reali nel senso in questo caso il colonnello è veramente una persona un attore che viene seguito durante la giornata fotografato che splendida carriera l'attore esatto si simula la sua vita come colonnello senza nave cosa fai nella vita faccio il logo faccio il colonnello Sanders o Sanders probabilmente mentre ci sono poi invece virtuale influencer che proprio sono degli avatar veri e propri sono reali nel senso di fatti di materia ma anche proprio avatar veri e propri cioè in reali e poi vi faremo delle vi citeremo alcuni casi perché è interessante questo fenomeno si parte da se mi permetti Paolo da un dato statistico che nella popolazione diciamo molto più digitalizzata parliamo delle soliti ragazzi voi che vi odio che avete vent'anni ma solo perché siete giovani dannazione che siete molto diciamo più vicini al mondo digitale quindi riuscite anche rispetto a un settantenne accettare l'idea che ci sia un virtual influencer questo fetta di pubblico dato americano per il 60 per cento si fiderebbe anche dell'opinione di un avatar questa cosa mi sconvolge però è così infatti non a caso le grandi aziende stanno ricorrendo a questo tipo di di influencer quali sono i pro e i contro Paolo beh hai detto tu tanti nomi si stanno affidando ai virtual influencer beh il proprio immediato e chi ci conosce ricorderà che abbiamo detto che tra le criticità dell'influencer come strategia di marketing c'è il fatto che questo essere umano non può essere pilotato come una marionetta quindi può fare gaff può dire cose che non ti piacciono e può non rappresentare il tuo brand come vorresti eliminando l'essere umano eliminiamo il libero arbitrio e il robot invece fa esattamente quello che gli dici quindi può essere controllato da la alla z nessun problema c'è un piccolo problema però che non se voi vi affidate a un testimonial e date un sacco di soldi a cristiano ronaldo ok prendete l'autorevolezza di cristiano ronaldo cristiano ronaldo esiste è una persona è pagata e fa una roba il robot non ha scelto di esistere quindi questo non è un libro di asimov non ci sono problematiche morali il robot fa quello che gli dici ma il robot non esiste quindi il robot non è niente più che il logo però questa cosa come diceva lui non viene presa non viene considerata la generazione z perché la prendono per buona cioè quel robot mi ha detto di comprare il detersivo è un'ottima idea cioè è allucinante ma è così non dovrebbe essere un influencer perché non è già più influencing questo qui attenzione è un'altra strategia è una strategia di digital marketing a 360 gradi ma quel coso non vive ecco quel coso non vive bello c'è anche un'altra motivazione importante che sempre più nascono conflittualità attorno alla figura dell'influencer possiamo citare alcuni esempi quello che mi ricordo di più è il famoso compleanno in un supermercato sempre della Ferragni con gli ospiti che cominciano a lanciare frutto, verdura, lattughe un momento altissimo con Fedez che chiede scusa scusate se lanciamo le lattughe cose tristissime questo per dire che l'uso di influencer reali può avere dei backlash come si dice nel gergo attenzione quindi ti torna tutto contro perché l'influencer effettivamente vive di vita propria essendo un umano può fare delle questo inconveniente parla vive parla vive va al bagno l'influencer comunque può commettere degli errori e volente o nolente un brand si affida a un influencer che è una variabile è una variabile e alcuni dei suoi atteggiamenti poi possono essere controproducenti nei confronti anche del brand stesso oppure spesso all'influencer viene data la possibilità di muoversi liberamente comunicare liberamente secondo il proprio tono di voce la propria comunicazione un prodotto e anche questo può essere un problema perché magari c'è nel suo modo di raccontare qualcosa qualcosa può infastidire il target del nostro brand che si affida all'influencer quindi anche qui come fai a valutarlo come fai a non valutarlo altre tematiche che entrano dentro sono il fatto che spesso c'è una polemica attorno agli influencer perché acquistano follower non è facile capire se effettivamente qual è il peso di quell'influencer quindi spesso un'azienda dice ok sto spendendo un sacco di soldi concreto ma nel concreto qual è il ritorno sappiamo tutti che la ferragna ha un sacco di ritorno per ogni post che fa ma anche lì come facciamo effettivamente a valutarlo ci sono dei modi di tracciamento tramite i codici sconto queste cose così ma non è facile ma non è assolutamente facile visto che comunque si tratta di investimenti ingenti perché ormai gli influencer sono dei veri e propri brand e richiedono comunque un investimento vero e proprio anche lì il brand decide a un certo punto avendo anche un budget perché non è che il virtual influencer lo può fare il piccolo brand dice ok me ne creo uno mio è totalmente controllabile so come si manifesta come interagisce con le persone perché effettivamente dietro ci sono degli automatismi nel caso in tutti i casi ci sono degli automatismi dei bot c'è un tizio con la mano sotto che lo manovra come One di Bim Bum Bum è una mano come Toby Toby di Vodafone Vodafone c'è questo Toby che ti risponde alle domande è fastidiosissimo però non lo conosco se tu chiami a centralino c'è questo avatar che ti dice di cosa hai bisogno quindi parli con un pupazzo io mi diverto un sacco dico ciao idolo vorrei sapere e lui mi risponde è una cosa meravigliosa guarda un altro concetto mi è venuto in mente sempre ricordandola dalla puntata che abbiamo fatto la volta scorsa ripescatele se vi va è la differenza tra testimonial e influencer tu hai sottolineato tutti i problemi legati alla cattiva comunicazione di influencer al fatto che possa fare figure di merda che possa dire cose che non ti rispecchiano in termini tono voice o contenuto il testimonial prima era una persona famosa della quale il brand affittava una porzione di tempo cioè tu lo affittavi finché faceva lo spot l'influencer è diverso perché tu lo segui quando vale Maldive col suo fidanzato palestratissimo lo segui al supermercato è attivo H24 è attivo H24 quindi ha delle posizioni enormi di dire o fare puttanate ah certo come dicevamo il compleanno al supermercato ed è aumenta questo fattore di rischio aumenta molto quindi è un concetto con il quale i brand che comunque non si stanno lasciando tutti andare all'influencing come strategia molti sono resti a investire questi soldi preferiscono montarsi un robot che faccia esattamente cosa dicono e Prada lo sta facendo Gucci in Cina abbiamo letto esatto la famosa Erica Erica che tra l'altro prima c'è questo denota che mostrissiamo avevamo commentato in maniera entusiasta a Erica dicendo quanto è carina quanto è carino il robot di Gucci si è molto figa Erica cioè a me piaceva e a Paolo no 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 a me piace un botto ti piace Erica? si 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 l'adoro guarda ti faresti senza ombra di dubbio e da stasera io dormo in via della viola esatto stai invitando Erica a dormire da te Erica se ci stai ascoltando tramite un algoritmo ti aspettiamo in via della viola no perché è interessante Erica perché per esempio anche per quanto riguarda poi i canali che vengono ci stanno chiedendo se fanno la multa ci chiedono in diretta se ci fanno la multa è una scena meraviglia si poi tranquillo multa da 150 euro tranquilli ciao bello puoi andare a fare il tuo giro in centro ci vediamo in questura abbiamo salutato uno che parcheggia in zona vietata Dio quanto è bella la nostra vita Dio quanto è bella stupendo comunque Erica perché è interessante come solito ci perdiamo è interessante perché una campagna influencer marketing è avvenuta interamente con una gamification su WeChat il concetto di WeChat diciamo il Whatsapp degli asiatici dei cinesi da solo conta più degli utenti di WeChat comunque altri particolari altre tematiche che affronteremo perché è interessante come viene citato in quest'articolo di Inside Marketing perché il popolo asiatico è molto più abituato a interazioni con Avatar esatto per esempio i giapponesi che sono malati anche da un punto di vista sessuale spesso adorano avere interazioni con roba che non risponde con robot mi invito tutti a ritrovare la puntata bellissima della Zanzara dove si citava l'apertura del nuovissimo punto vendita affitto di avatar sessuali a Torino si si straordinario quindi anche da noi chi lo sa magari nell'ambito diciamo dei brand nell'ambito del porno quanti si siano già affidati a degli avatar sarebbe bello da studiare perché secondo me può essere effettivamente efficace e la dice lunga sulla sociopatia crescente però entai tutte queste cose ecco perché poi il popolo asiatico molto più abituato all'interazione secondo me deriva tutto dal mondo degli entai ma anche dalla distanza comunque che si viene a creare in certi tipi metropoli perché a Tokyo l'idea di una certa solitudine proprio organica strutturale nella propria esistenza viene digerita in corso d'opera noi non riusciamo a farci una ragione poi abbiamo anche altri casi come Lil Michela potete cercarla su Instagram è un pochino più anziana vabbè però gallina vecchia è nata nel 2016 quindi è più anziana ha 5 anni questo avatar è bellissimo e poi anche Shudu citiamo anche la famosa Shudu e Nonuri e Bermuda sono 4 avatar che sono dei micro influencer e nano influencer nell'ambito sempre degli avatar digitali la cosa è molto interessante perché c'è anche danni lo citerei che sono tutti micro influencer che trovate su Instagram fammi vedere Shudu Shudu l'hai vista prima ti apprezzava tantissimo Shudu è nera è alta un bel po' però è alta è di plastica ed è alta noi non ci arriviamo addirittura questi avatar sono stati invitati a degli eventi pubblici questa cosa è alienante da morire è una puntata di Black Mirror ragazzi chi lo sa che magari appunto fra dieci anni ci saranno avatar che presenteranno proprio dei veri eventi mondani è come se un politico è come se un comico vincesse le elezioni esatto è successo da noi è successo anche in Ucraina quindi la cosa non è distopie ecco la più figa era Thermodas Bay tra l'altro è un account verificato io non ce l'ho lei sì ecco mi sono depresso però quanto è fuori di cervello ragazzi vi invitiamo solo a pensare a sta roba sto coso c'ha l'account verificato c'ha l'account verificato non esiste lei non c'ha i documenti ma l'account verificato e noi no e noi no comunque questa cosa quanto è ipotizzabile poi l'uso di questi virtual influencers nel mondo della politica tu immagina la capacità che ha un bot di poter interagire fra 30 anni ipotizziamo tipo l'uomo bicentenario che poi ottiene la cittadinanza e magari conosce tutta la coscienza umana un'intelligenza artificiale sa come nei tour show non lo freghi come che ne so ad esempio i bias cognitivi no e allora magari cerca di confermare tutte le tue ipotesi stramparate tipo che i neri sono pericolosi gli immigrati ma nessuno lo direbbe mai ci sono gli avatar veri che lo fanno ci sono i pupazzi quelli veri poi ci sono anche tantissimi altri brand come appunto Prada Diesel Monclerc citando quelli italiani comunque super nomi potete vedere quindi non se lo possono permettere solo aziende di altissimo livello ci sono anche quelle che riguardano mi sa il no profit non so se Unicef è un colosso comunque Unicef che si è affidata a un altro influence sempre non umano non Uri che è un avatar vero e proprio e poi niente ce ne sono tantissimi altri è un fenomeno tutto strano effettivamente c'è una cosa molto interessante e secondo me è la nuova frontiera nel senso che questa credo davvero anch'io è la nuova frontiera e staremo a vedere perché è un fenomeno nato appunto dalla più anziana del 2016 quindi 16 a 17 18 3 anni 3 anni 3 anni possiamo immaginare cosa succede fra 5 o 6 sarà molto interessante è stato interessante soltanto vedere cosa è successo negli ultimi 10 minuti abbiamo iniziato ridendo come dei pazzi ha 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 e poi ci siamo depressi ragionando sulla portata sociale di questa cosa non va presa la leggera comunque ti dice molto non solo sul business ma sulla nostra società secondo me sì è tristissimo è abbastanza tristissimo la tristezza cosa possiamo fare però perché ancora citando i WeChat e gli sistemi di messaggistica abbiamo visto come dal 2016 in poi il traffico si è spostato da le piazze pubbliche quindi social media a le piazze private quindi i sistemi di messaggistica quanto può essere potente l'uso di un virtual influencer posso immaginare per un e-commerce ad esempio che sfruttano i e-commerce già sfruttano tantissimo i bot i chatbot potete immaginare quanto può essere potente l'utilizzo applicato di un virtual influencer a un chatbot che può interagire che può profilare un utente gli può chiedere delle informazioni gli può dire ti suggerisco questo vestito XY magari questo avatar si può vestire subito con questo tipo di vestito a farti vedere l'abbinamento vedo la perversione nei tuoi occhi mi sto quasi eccitando a questa idea nel senso è incredibile è fighissimo vedremo delle cose pazzesche a me sta facendo pensare la canzone di Depeche Mode Personal Jesus avrai il tuo influencer personale perché il rapporto come hai detto tu si è spostato dai social verso il rapporto uno a uno ed è sempre più tagliato su misura quindi il raggio della comunicazione si restringe va a colpire sempre soltanto un individuo e risponde a seconda dei feedback dell'individuo e questo mi ricorda un po' ti ricordi Doretta di MSN? no Doretta come non ti ricorda nessuno qua si ricorda Doretta era il bot di MSN Messenger Doretta si chiamava ed era divertentissimo insultarla lei se ne aveva male ma no è triste pensandoci mi ferisce un po' tutto quello che le ho detto e fatto in quegli anni quindi scusami Doretta ok Doretta perdonaci se adesso ti riattivano per caso non ci infamare mi manca Messenger che revival l'ultima cosa che stavo pensando è però la difficoltà perché un umano ha degli atteggiamenti umani e se è bravo ovviamente diventa un influencer una persona una persona che può smuovere in qualche modo i comportamenti d'acquisto delle persone perché a noi quello alla fine interessa quanto può essere però difficile decidere a tavolino quali siano le caratteristiche di un avatar di un virtual influencer cioè se è difficile appunto che un essere umano diventi influencer figuriamoci un virtual influencer è complicato perché richiede comunque un lavoro di grandissima raccolta dei dati perché tu devi avere le idee molto molto chiare sul tuo cliente devi sapere più possibile di lui però una volta che hai tantissimi dati di qualità ricordatevi la qualità dei dati puoi riuscire a profilare l'interlocutore ideale per il tuo cliente abbiamo detto prima che ci stiamo spostando verso una comunicazione sempre più personale e non è un dettaglio si parte tutto dai dati più ne raccogli perché perché i colossi della tecnologia vogliono un sacco di cose sapere tanto su di noi non gliene frega niente di quello che vi piace leggere però vogliono sapere come rispondereste agli stimoli quindi tutto procede in questa direzione ecco i dati sono fondamentali per creare risposte di questo tipo fino ad arrivare a dei virtual influencer che ovviamente è un livello altissimo sì quindi per chiudere la parola chiave che viene anche citata in questo articolo è appunto la consistenza quanto deve essere consistente un virtual influencer per la grande discriminante affinché poi questo virtual influencer sia effettivamente efficace o meno agli occhi del nostro pubblico della nostra audience che non si limiti a ciao come stai posso aiutarti esatto oppure che si veste semplicemente figa attizza la curiosità sessuale di Paolo ma non di noi altri di voi normali di voi normali bene allora niente vi faremo sapere se poi hanno multato o meno il tizio che ha parcheggiato qui in via Lessi veniteci a trovare anzi creeremo un flash mob la prossima volta con i vigili urbani con i vigili urbani che fanno IMCA mentre noi facciamo la diretta ma chiamali chiamali subito beh l'abbiamo detto abbastanza cazzata e possiamo anche ritirarci nelle segrete dovevamo essere stringati non ce l'abbiamo fatta neanche stavolta no dai 21 minuti siamo stati abbastanza seri beh allora lo dici tu lo dico io seguiteci seguiteci ovunque seguiteci su Spreaker su Spotify fai